Piacere cartellano 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 No, una cosa ci tenevo a dirvela, Franco Setti torna su un palco ufficialmente d'opvinzata, e allora noi abbiamo pensato di premiarlo ufficialmente con una balla targa, eccola qua, una balla targa MN che sta per Magna Nanau Vaporovati Axelia. Cosa è stoppita, comunque grazie. Ma non è finita qua? Ascolta, a me la targa mi ha detto mia. No, no, per Pieronga ho un letter premio, siccome che stasera Pieronga giochi in calle, come la Reggiana al Giglio, spero che il ciappone a quattro gol anche lui, allora per Pieronga abbiamo una magnifica coppa e un bellissimo premio in denari. Sta a vedere, eh? Dà anche un salame, chissà che ingrasso un po'. Allora, che ha la coppa, che ha la coppa, e che ha il premio in denari che è tutta la Pieronga in Pina, Rabele, Satbele, Magna, Cagnita. Allora, dopo per le altre serate studieremo degli altri premi. Sarò brevissimo, dicevo prima, io parlo per me, adesso in questo momento sono assente da quasi 7, 8, 9 mesi dai palchi. A voi i miei motivi sono sempre queste male, e io sono un cliente face dell'USL, e tant'è vero che lo spettacolo di quest'anno verterà soprattutto sull'USL, sull'essere malati, avere dei problemi, andare all'ospedale, l'idutore, eccetera. Mi imposto a parlare perché a me ho avuto quante sfatture, 7 interventi chirurgici, due strappi di legamenti, ho fatto 30 digest, ho tante dolasti, ho avuto un inferno, una colica renella, manca il diabete, mi hanno fatto la targa e tutto, e mi hanno dato un uraggio in tilt. Per il resto funziona tutto bene, e non voglio parlare politica, e politica ne parliamo mai più, e parliamo solo della salute e della sanità, e adesso la chiamiamo la mia più sanità, la chiamiamo Anitta, perché dell'Orenza e Company hanno rubato l'USL, l'acento, hanno rubato tutto, le mie più è la stessa cosa per me. Sono stati tutti quanti dal dottore a fare il check-up, chi lo ha capito il ketchup, l'hanno di comprare una bottiglia di Pondorco per il patatello, perché... Ma c'è per fare la figura da stop in questo modo. Vabbè, hanno successo tutti i colori, basta dire che a me, quando sono andato dal dottore, mi ha detto che con il polistirone, con il polistirone della circo me la siamo. Tutti i lavori che avevano anche l'ampasecchi, mi ha detto di smettere di bere, di mangiare, di fumare, gna gna gna, e di cantare, mi ha detto, ma io anche cantare, mi ha detto, smettere che vedrai che la voglia cantare la pasta. Poi dopo mi ha detto, niente sesso, mi tocca andare a casa Santa Vittoria, se io che mi staggo a Viadana, ho una ragazza della slang mia da ridere. Poi dopo, ha dato un po' di aerofagia, mi ha detto che devo fare i venti, mi ha detto, tutt'ora andare a Viadana a fare i venti, ma dori, insomma, la posta mia a fare i venti. Mi ha detto tutti i colori, l'Etherdel mi ha detto che sono incontinenti, adesso, ora in agosto vado in Sardegna e provo a dire che sono incontinenti, siete buoni. e manca a te il colesterolo, ma il sol perché? Io ho lavorato in quei anni, in ceramica, a Feva l'interprete, ho lavorato a colestero, e mi ha detto il colesterolo, è normale, no? Dopo io ho fatto, ne ha detto che la ciamella 3M, è un gruppo che la ciamella 3M, è un gruppo che la ciamella 3M, non mi ha detto, i trigliceridi, non mi ha detto. E, dopo appunto, cosa ha detto al dottore Pierron e a Franco, perché ne è successo anche loro, prima però, facciamo il nostro inno di quest'anno, che è una canzone che la parla della sanità, che si chiama I maled la motua. Solo che ho un problema, ho un mio gran audio, che è insieme al PELC, è meglio se cantiamo in cuffia, possiamo cantare in cuffia? Ah, se tu vuoi, io sento benissimo. Come l'Ambra, eh? Cantiamo in cuffia? Cantiamo in cuffia? Cantiamo in cuffia? Dai, secondo me è meglio perché è me che sento meglio. Non c'è niente a fare con il suo maneglio, eh? No, non c'è. Adesso, siccome... E cantano tutti in cuffia, sono un po' miei più ignoranti, adesso che avrei però la doccia del telefono, che è... Beh, lì sta, sì. I maled la motua, vai, nano, che ti pago. Come sto, mia? Sei carina. Cambia, riforma e torna a riformer. Regimè, cambiando i nome al segno, che è il virgin, non c'è nulla, lì, lì, la, la però non c'è no, n'è da avere. La saluta l'è mia tutt'mole dimondita, fin qu'la gette d'amai al suo valore, ma s'l'atvina mancar kim vina gamba, quando attacca a far la spola dei doutor. Arrisat in tutti i pini e giroglifiche, guarda che es al nome le saim per esbagliare, al meddaini sei per pini e con trindicazione, se t'fambeina il corte sgane in polmau, se la motuala ti passa a costa in l'iretio, o se invece mi è prevesti all'ora di io. A se è un... Us, ims, gup, ticetetac rum, saubat fanyermate in seminico del galeini. Us, ims, gup, ticetetac rum, saubat dandidanket quaresniakun al meddaini. Us, ims, gup, ticetetac rum, saubel prenoternes amacvoltes dot mataini. E quando un giorno finalmente tocca a te, per farles amacvoltes dot mataini. Nota, prenota e torna a prenoter. Us, ims, gup, ticetetac rum, saubel prenoternes amacvoltes dot mataini. Us, ims, gup, ticetac rum, saubel prenoternes amacvoltes dot mataini. Us, ims, gup, ticetac rum, saubel prenoternes amacvoltes dot mataini. Dove can tuivi a sterpi u meno se. Se alla nott o alla festa, ad Capitanur cins atpertelefon lorat volem visitèr. E se dopo a te inoca o te scappa la pazzie, Puol succedere anche a te manterna a cagare. Us, ims, gup, ticetetac rum, saubel prenoternes amacvoltes dot mataini semico del galeini. E quando un giorno in fine al meita toccate per ferre le zamaggol quattordes do mesdè E ha risultato il vimpo a torre al venerdè con il professor al che al sabato do mesdè O forse al lunedè, no, a crada al martedè, no, o forse al giovedì, no, e sei bravanti a c'è Cambia, riforma e torna a riformer Cambia i nomi al singh di la rilla là, però anche il vinda a ferre Nota, prenota e torna a prenoter So mi maledà, molto la rilla là, e spana a fer cooper Grazie Grazie Apprezziamo che appreziate Ok, la vale ora di smetterla A posta, a rivederci Ah no, no, sono sbagliato, scusa Allora, cantiamo senza coffia Dai, anche secondo me un gran audio è di stessa Allora, certo che l'era destino che prima o dopo tornessi insieme a un peggio a ragionare molto Cioè, facciamo audio, abbiamo bella la parola audio in dal nome Abbiamo un audio 80 Abbiamo in via Mascani Abbiamo il commercialista che si chiama Rossini Abbiamo i Tuscanini La mia moglie non c'ha mappucci Puttini non c'ha mappuccini Sono anche bellini Oltretutto da quando ho del dimissione sono al Verdi Allora mi ha detto la mia moglie Strauss, va a lavorare, ignorante Eccomi qua a cantare Vi stavo dicendo prima Cos'ha detto al dottor Avvicutmi a tutti perchè è troppo lunga Ogni posto è tre volte che avvicutti Però, per dirlo, sono stato al dottor con Uberto Lui in certe cose l'ho un po' sbeschese Se vuol dire No, voglio solo dire che il dottor ha detto Mi porti l'analisi delle feci Ha detto quali dire? Ha detto no, quelle che fa domani Ha detto allora le farò Come fai a portare le feci Perchè lui sottilizza Un po' dopo ha detto Ha detto tu hai la glicemia Ha detto ho messo al saiva Ha detto cosa? Ha detto che aveva la glicemia sua Ha detto che la dà andrei subito Ha detto Che gli ho? Chi l'ho? No, no, no Chi l'ho? Ha detto il pastigli da tornare prima di svegliarsi Non è mica vero Ha detto Ha detto te nanno l'alcol e il fumo Ti uccidono lentamente Ha detto che mi faccio Dopo ha detto De stare lontani vai in liquore Perchè lui piace ogni tanto Un quel grappè Un bicicletta Anche a me Bevi bevi che tanto c'è l'ines Ha detto No, l'ines L'infermiera L'apostrofo ines Ha controllato la pressione Mentre erano lì Ha detto che non c'è anche la spinta erogena Perché è qualche quadramia Ha guardato la spinta erogena Ma ha parlato di materia Potenza Ha detto Concludendo Ha detto che qualche funzione Ha fatto una ricetta 8 kg di pane al dè Ha detto Ma non ho vinto Ha detto La propria cosa Ha detto E poi Solo per scurterla Ha detto Ma io Ho sempre ho messo Il scherpi Ha detto Si ho messo Ma a causa del scherpi Ha detto Ho provato a tirare fuori la lingua Ha detto Io ho potuto fare Il scherpi Insomma Ha detto E tutto il tipo Perché Anche noi Come i nostri problemi Som male E perché som male Le colpa dels tre E perché vinono i tre Vi spiegamo con una canzone Che es chiama Per la prima volta In la storia umana Una canzone intitolata Vai maestro che te pago Niente più cancerogeno Di un lunedì mattina Quando la sveglia strepita E fuori c'è labrina Ti senti già le cellule Pronte a degenerare Quando sollevi il culo Perché ti devi alzare Hai l'impeto del vomito La bocca appiccicosa Si 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 La pancia che ti brontola E l'espressione ansiosa Tua moglie rompe il cavolo Sempre Non smette di parlare Il lunedì mattina Sarebbe da eliminare La saffonetta scivola Dietro la lavatrice Anche a te E nel cassetto solito Non ci son più camice Ti chiamano al telefono Mentre la devi fare Il lunedì mattina Fa veramente cazzo Per tutta la domenica Ti han fatto male i denti Sei stato anche una tresima Con tutti i tuoi parenti In bar non c'era un'anima Erano tutti a sciare Persino la domenica Sarebbe da eliminare Si 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 Il crack della Montedison L'Italia che va male La Bosnia e l'Herzegovina Il nonno all'ospedale Di Pietro e Tangentopoli Bossi che ce la duro Persino la domenica Non sei più al sicuro Sei senza sigarette Ma il tabaccaio è chiuso Non parte più la macchina Perché il motore è fuso Bulli che c'ha la sciatica Baggio che sa giocare Bala che la domenica Fa veramente cagare E' lo stress Che distrosse Ti riduce uno stress Tra il lavoro e le tasse La fatica ti ammasse Hai la tosse Ma le osse Sei già pronto al collasse Mamma mia che rottura Di palle di casse Si ha fatto la cuccarina Tutta la settimana poi è pezzo di un'occhessina Aspetti solo il sabato Per fare la schedina E quando la domenica Ascolti i risultati Ti accorgi che su tre di cine hai dieci sbagliati Ti incazzi come un'apila E strappi la schedina Aspetti come un incubo il lunedì mattina E dopo fino al venerdì Vai solo a lavorare Tutta la settimana fa veramente cagare Oh 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 L'ulto Membler in ritarda Vecch figura che ho fatto Dai che rifò Tutta la settimana fa veramente cagare No adesso ne rinventisci Eh no lo sa molto Eh fam la molto no? Tutta la settimana fa veramente cagare Sbaglio tutto il voltio Ok quanti volti? No avevo un raspino qua in volante E gammai becchè E vodete che Le per quacciare La parola cagare Questa mi è bene dire la parola cagare in pubblico Se ho vetro ammfe Emso a tempo e sento la parola cagare Questa che non dira Alla bellezza tre volte Più niente Andiamo avanti Via Non ho capito bene L'ultima parola Non ho capito Questa mi piace Dai su parti mi piace Allora No vorrei a dire No io avevo paura che i nessi fossero finiti È come un vivere Reste È perché il vivere della reggiana Ehm Volevo dire tornando alla sanità Che anche i dottori In un po' di casinista Devne stare tanti Come perlino Perché Gli presenti la Fiat La fabbrica La fa Solo l'an passato Vende un milione di macchine Beh la fabbrica l'era L'era di un certo guzzi Dopo una volta L'entrata il dottore Gli ha detto di fare dal moto La venduta la fabbrica Agnelli E anche quando la parola Dice per esempio Quando una donna Comincia a avere una certa tecla Comincia a avere dei problemi Dice Lasciamo meno pausa Casomai la sarà più pausa O meno risa Ma Bisogna che in perna parla Dice Il parto Il parto Quando il Putin arriva Ma il parto Non è mai spremato Quello L'arrivo Bisogna che imparano a parlare E poi Quando avremo più tempo Vi farò una conferenza Con Alpianti Alchevi Al provvisori Gli usci e gli entri Che vi indecco l'ona Per dire Ma mia moglie L'altra sera Ha goduto Se ha detto Le babbucce Con le mammucce Che le babbucce Finalmente E i Putin Mettene le figliucce Questa è un po' il lavoro Che vi spiego un'altra volta Sai io Che l'ho Che l'ho Che da recuperare Allora Volevo dire anche un'altra cosa Mi piace fare un lavoro Un po' fenomenale Tipo come fanno i nomadi No? Chi vuole fare dei suggerimenti Per esempio Suggerimenti e consigli Indirizzati a Uberto Critiche sgridate Offese A Franco Richieste Dichiarazioni A me Solo femmine Per piaseire Purtemmi anche dal multi O dal bulletti O dal gas O dalla telecom Che è un bel nostro Tornando allo stress Una delle cause principali Dal stress E la frenesia La smaglia Le cori che cumpra E la borsa Della spesa E non ho detto Per spiegare Come può nasce la frenesia Io ho fatto una canzone Sui supermarcetti Che la chiamano Supermarcetti Sto' acabando Dopo le tre mesi di spettacolo Fanno girare Volevo andare a lavorare Ma teina no? Da se cante Da se cante Shopping Supermarcetti Supermarcetti No basta con su te cop e mercatoni Con sti sidis Con sti sigma Con sti centri Comercii Le è un lavoro da mia normei So la resi in quatercenti Di olor che i so criei E la stande l'hipercop Oramai in finte trop Superale nord e miglia Rinascente meridiana Porca haket la futana Molto è totta darvi ai pei Prendi tre e paghi due Le è un lavoro in sense Quanto pagheva per tri E mi sei per giaver Su mi assevo Però stavolta io sbaglievo Avoi manier la trotta a longa che sei Però pescheta da me Avoi manier del sresi di duron però rubei su padron avoi un gato che ha il txapa di rat e mi comprare il kit e cat avoi talare tot via del bidon e mi collo stalla dintel carton che dupi vron avoi manier di polastra grassi peis e mi è galetta mburga eis ai ragasso a terri soltel spunti e vengono tutti i bambini capitan fintus ma il bambino è la cè avoi la colla e il gran bacale al patateini farei cric e croc ma preferis del borsotto e del gno shoppino, shoppino supermarketti, supermarketti e basta con il riso bel e pronto con il whisky di Michele con l'amaro di cavalli con la craft dei sofformai con i viaggi del cameltrofi con i fustini che intumo in lofi che ti scambi in mia qualtà che il sabello rota il caz e san'è il numero cinque l'egoista e l'arroganza a finire al mal de paz con il contatto di iper prendi tre, paghi due messo il mio deficit vuoi comprare solo per un e non vuoi mi spendere niente che l'offerta non mi interessa niente a voi già fare la mia televisione a buttare la jota al balcão a voi trover chi fa pubblicità a far la jota in e-mail a voi buttare in del cesso l'arloi a voi pulire o mai col cun dal fai a voi portare la macchina in demolizion e andare a pei con il bottom down a voi sapere chi che hai visti firme e dire che l'imbalse a voi fermer chi trova il cellulare e può mandarla a cacchier a voi spacchier al mio telefono a voi cercher la sicurazione a voi fermer le butteglie e le butlette e può spiegare così mi malchette e basta con il siri in discoteca con il cop in autostrada con i sector con i swatch che in plastica e in dipogge con i scherpi che si infeggien con i cremi che desfeggien con i tampacs assorbenti più ciechi e più potenti con i cesare ragazzi che capica e capica pesto un casco il caffè che più lo mandi giù e più ti tira su prendi tre e paghi due le un lavori in sen se quant' pagheva per tri a misa in perciavè meno male che grillo la spieghe il direbbe tante le due le due le due Simbibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibi Kodak, va 일반vi i peli Michele, va Rec Aldeggia i peli аются buatanозiraptisk who Taubaschino ale baffotero Ma tu mi ami Ma onun olas isi muỗ stored here Ma quanto mi ami Esti sbra Alger, idiotas Frimo Mulino Bianco Nem fa entendermi su Sor 키 e크�roko con i soffi inc君 e clic n crock e mi accompagno da me e forza Italia forza Italia è finita grazie grazie siete molto gentili grazie 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 no 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 è mia che sei che finir in ferita a me metto no 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 fai mia che sei fai mia che sei no sono molto contento perché fino a poco fa pensavamo cominciamo da San Martino e vedrai che stuccarà traslocare e poi era una fila di bidon di rifiuto lei che ho detto sbutterà le dente insomma e a me che le andava bene posso chiedere qualcosa a tua madre prego Lusi anche domenica pini torte o no posso a me sarei segreti a pensare di fare in tempo beh vabbiamo che ragionamenti che ne vado a finire di tutti no vorrei a dire solo un brevissimo accenno alla politica la colpa è di politica è di onorevole ecco perché vorrei parlare di politica perché in tutte di ambego ormai i gnocchi e vorrei niente un po' di ambego è di onorevole anche in piscina se ti fai al mare o in piscina ti fai un normale è di nudo un cane un cane è di nudo un cane una rana è di nudo i politici è di nudo in tutto è di nudo è di nudo e vorrei più parlare basta la colpa di onorevole adesso vi spiegamo cosa le non è onorevole vai maestro che te pago se un politico dice sì vuol dire no capii? e se dice forse vuole dire no eccoci se un politico dice no non è un politico in politica non si deve mai dire no mai un politico non spera mai casomai lui auspica esatto e non pensa mai ha ragione di ritenere che deve dire ogni tre minuti nella misura in cui e se c'è una cosa bella l'ha fatta lui deve usare un grande numero di vocaboli che non hanno significati comprensibili esprimendo pensieri e frasi indecifrabili e frasi indecifrabili per far dire ai polli ostias la parle bene deve usarne il maggior numero possibile con dei giri di parole interminabili per esprimere i concetti trascurabili e se poi non hanno senso fare stessi ande poi il cesso eccoci come è onde per quindipossia alza la costa e plissia scrissia come una vissia sull'erba lì si ragiona a me sono spariti i bianchi sono calati i rossi allora ci abbiamo bossi mentre al su ci sono i boss e mi sono una mola rossa nella misura in cui è indifferibile ed auspicabile portare avanti ormai questo discorso imprescindibile noi abbiamo ragione di ritenere e poco plausibile l'archetipo prototipo di questa sintesi rivalutabile ragion per cui a prescindere dal subcosciente che si obliterà e si infutura in prassi anacronistiche e filologiche per l'antropomorfismo della nostra palingenesi subordinata al ciclo metafisico non so se mi si piega onde per quindipossia alza la costa e plissia strissia con una pizia sull'erba lissia raggiunga mei sull'erba lissia raggiunga mei sull'erba lissia raggiunga mei sull'erba lissia raggiunga mei per lissia raggiunga mei sull'erba lissia raggiunga mei introspezione peculiare delle sinergie retroattive e condizione sine qua non e punto assolutamente irrinunciabile una drastica riproposizione della nostra tangibilità mnemonica mamola sono d'accordo vista la reiterata sperequazione polivalente insorta a seguito delle avulse lucubrazioni incoercibili mi era da immaginare perché a forza di sparare dal parola che capisci niente nessuno andava a finire secondo me ti sbaglié quel però più che politico sembravo il duce me ho capito l'ultima parola si mai stai a l'ospedale che è da San Martai d'on d'è va a Santa Maria ah Corèges ma fai la strada centrale Corèges cioè quella dove gai més Corèges d'està més Corèges d'està no? ma perché a me adesso stava via d'ana no? l'ho un'ospedale che la gente la scappa bene via quando sta bene figuriamo-me quando smela e se un l'arsan per esempio il tenderniera res messo un pratico per usare il nov con la Santa Maria no? all'interdesso in questo l'ospedale io noté che ogni reperto ha la saletta d'aspetta no? quel tavolo quel giornale e ogni reperto ha il suo giornale chi mai va a dir? a chi è da un ca cardiologia naturalmente lascia in cuore il giornale con il satiric con la pena fa in ottorino la ringoiatria o sembrano tutti in giro la voce sorrisi e canzoni sorrisi posso anche capire canzoni ortopedia ortopedia reparto gas dove mettono qui che vanno a sbattere no? anche quattro ruote nel senso del carusaini e se la stampa perché la stampa proprio con triplate in oculestica fa il fenomeno panorama in là tutto ben detto capito? panorama al bar ha l'espresso se vuoi che abbiano se mi ha l'espresso al bar a me mi piace la rianimazione la rianimazione anche hai solo 24 ore oh caro con l'elma colpì in la camera in la camera mortuaria va a cura andare come fidate me anche stop perché la notte i resti del carlino che ne è più d'un e se che è il manifesto mia con la però con il dalutto poi dopo che ha il pronto soccorso che è il tempo ha l'ecvola mi ha il time play si freddo e se che è in ginecologia che è un giornale francese che mi 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 ha il nome bravo me lo mi ha detto me lo mi ha detto invece invece in urologia che per chi le saia mia urologia le dove cure gli uomini le ha in un caso in chirurgia mi sono una volta che c'era solo due persone da in due mesi a me e le si vengono l'unità però mi hanno dato l'abbonamento perché vengono da operare a San Lazio il San tot stampo mi allettante a guardare i giornali e non è matto cioè ma è matto al centro della stanza dice questo giornale l'isom e se passè che ha di un matto sporco e la giornale dire e poi la maternità è l'avvenire il piccolo di Napoli tutto sporco e se l'avventi perché i putini come i socialisti mangiano sbragliano mangiano sbragliano mangiano cioè e allora fa ma il più forte in geriatria dove gli anciani hanno un giornale tedesco Spiegel infatti passa il giornale che dice Spiegel dovete scusare i colpi di tosse ogni tanto ma anche un semo che le dice la bronchite proprio prima della prima sereda chi è indovinate tornando ai politici per fare la par condizio per mettere gli d'inter tot che dopo nessuno può dire me non fai scletter noi hanno fatto una canzone che chiam pover italia che è il titolo anche della nostra cassetta musicassetta pover italia vai maestro che era una volta un tipo come occhetto da qui stioneva un bottino craxi però bottino un delato un taxi e la portè mese italia in tunisia tre quarti allora esce in campo il cavale con un partito calciano forza italia che era il futuro e tutta la plebaglia e per portare le trame ad am am pover silvio per luscon con i cuori fede animalon viva vinta la grande elezione noi avversari la grande di varon viva silvio per luscon che di poste tra voran un milion però mi da sola fiche carragion e che per renghe al cura il suo padrone era una volta un certo bertinol era anche massimo d'alema nomi diversi ma solito problema chi l'era il togo e chi l'era il macarone era una volta un certo bottiglion era panela e un tipo come bossi un giorno neri e il giorno dopo rossi contribuive in confusione pover Silvio Berluscon con i cuori fede di malone viva vita la grande di elezione con gli avversari agrompe di marone viva Silvio Berluscon che di poste lavorano un milione però chi dà sola viva carragion e che per renghe al culo è suo padrone in infini che era una volta al movimento cielo al capo in testa l'era un certo figlio che raccontava una favola ai bambini con la del lupo che le vinte n'agnese che era prodi un ex democristiano e che era anche al giudice di Pietro e ce l'ha messa a tutti nel di dietro e tutti insieme accanto al ritor nel pover Silvio Berluscon con i cuori fede in i malon lì va vita la grande elezione con gli avversari agrom e di maron viva Silvio Berluscon che di poste lavorano un milion però ogni da sola qui che ha ragion e che per lei che al culo è suo padrone pover Silvio Berluscon Berluscon per fede al limalón viva vita la grande elezione voy avversaria trompe limalón viva Silvio Berluscon che di poste lavorano un milion però a quittà solo lì che in caraccio e che per legge al suo padrone pover Silvio Berluscon un rigor e fede animalon Berluscon viva vita la grande elezione Berluscon avversaria rompe limalón Berluscon viva Silvio Berluscon per che di lì la borra na un milion Berluscon sada un par lì che per lì che la lì su padrone da da un pover il mio don da da un pa da da un pa al so che ama su melli mia al smali Kessler eh no a me ho provato a fare la mia fisica per fare la gemella Kessler anche perché qualunque cosa fa per fare il gemelli Kessler dopo ti quindi allora torniamo a parlare sanità no me la è un problema che gode spesso sono sempre dentro e fuori insomma e succede tutti i colori che andate dal dottore il medico condotto e succede tutti i colori dal dottore questa è una donna che andate da là che ha detto il dottore me e mia maria non mi abbastano dice ma mi c'è niente ha l'ho bella c'è non mi abbastano lì stessi c'è 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 non mi abbastano beh c'è c'è io ho c'è sono una putana e succede e succede dal dottore il dottore mi brucia il piiripincino mi brucia il piiripincino cos'è che ha bruciato il piiripincino al dottore il servessolo è andato a rubinato ha tolto un baslottino d'acqua la bagnò la sprieghel d'è adesso che ha un basso e non può andare a casa il piiripirincino leone un po' e dal dottor è condotto e vanno in tutto il mondo compresi in Australia e io ho avuto un aborigeno che ha avuto l'esaurimento perché noi pensiamo che siamo stressati quando andiamo in Australia che è l'esaurimento, invece anche là perché l'aborigeno è lì e ha avuto l'esaurimento indovina come mai si comprava un boomerang nuovo ma la cavia è più buttata via col vecchio tornava sempre in dritto insomma ognuno che ha il suo motivo ma adesso siamo stressati tutti si cosa volevo con te la questione è che andò al dottor allora il dottor dice che ha bisogno di fare un viaggio va in Africa, vanno per fare caccia grossa, vanno per voi anche bisogno di stare quando andò in Africa quando andò qui tornava al dottor e dice come l'andò? mi piace da mattina, mi sono divertito ha detto bene, siete fatti sono di caccia grossa non mi ha sentito tutti colori non mi ha sentito due rinoceronti quattro antilopi e gli dice così gli impala in dagli antilopi un po' più ciechi poi io mi piace di due e gli dice così gli è due e gli dice una specie di strusse e gli dice se io mi piace 5 o non si sbari così? non sbari ma così? e gli dice beh in Niger il taxi quando arriva scelten fuori dalla capanna fa non sbari, non sbari ma così tornando ai politici come dicevamo prima l'unica cosa da fare la sarebbe buttare una bomba e allora noi abbiamo fatto una canzone che chiamo la bomba che adesso la cantiamo che c'è l'unica cosa da fare l'unica cosa da fare l'unica cosa da fare la bomba può mi comprare a maneggiarla che vuole la precauzione le mie una coioneta che vuole un bel marone la bomba la può fare un moccetà oppure casomai la scoppia niente la bomba è facile da fare a quel che ha la roba e chi la sa trovere però quando l'ha messa insieme al treno che le rapine e cinta semplici che la fai bagninta e mel la bomba l'è scopiera un moccetto e quando l'ha messa a brisci in del cestain per i rifiuti in mese a tutti i dimostranti gli operai la bomba l'è scopiera un moccetto e quando l'ampia seda la Bologna la stasciao che Gheraniano non ha la volta a cuper la bomba l'è scopiera un moccetto e quando gli ampia vado a fare un gioco anche a Firenze dove l'appartamento un dipendente la bomba l'è scopiera guarda che è i servizi segreti 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 al lavoro la tappetta sta mai chiede e procurli clienti gli ospedi ai vecchini ai pre seconda scrofa però in piazza Fontana la Milano che Gheraniano impiegò con i clienti i ragazzi la bomba l'è scopiera e loro è morto e quando hanno pensato e quando hanno pensato a recuperare il giudice Falcão che l'indagheva che ha spaccava un po' il marone la bomba l'è scopiera e loro è morto e quando hanno deciso di massacrare un corsellino perché il vriva continuare come Falcão la bomba l'è scopiera anche loro è morto e quando hanno avuto il far fuori dalla chiesa oppure qui dal Pc9 che ne è morto tante più pala che glanca veda e se mi manca morto ma tutti al volti proprio a tutta al volti che gentreva di politico comunque di potente la bomba l'è scopiera che cool e quando hanno messo a Roma proprio a svegliare il Parlamento che ghera Craxi e spadulei la bomba l'è scopiera le mie scopiera a l'andisi n'esqueda polera la caseta la bomba un postigueda di cervezi segret, segret, segret a la borra tapete a stampa in chien e procurni cliente i hospedei ai becchini ai pre di cervezi segret, segret, segret a la borra tapete a stampa in chien e procurni cliente ai hospedei ai becchini ai pre oi 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 sì 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 se si si non vi raccomando perché ho sempre messo l'USL mentre parlavo della bomba quello che ha rumprato che ha eliminato il suo sumere morto un sumere un loilo che è proprio in del cortile canonico allora la telefonò l'USL ha detto ma io c'ho scusa sono il reverendo ho un sumere morto fa il pre lei deve chiamare l'ufficio del comune mi ha messo il telefono allora gli dice torna a fare il numero gli dice almeno che mi dicono che è un ufficio da ciamare sono sempre al reverendo come un sumer morto che è in cortile ma non ci deve mica chiamare noi deve chiamare l'ufficio del comune gli dice al telefono torna a fare il numero sono sempre il reverendo lo so che devo chiamare l'altro ufficio ma mi hanno detto che prima bisogna che vi si pare la chiamava mia a parlare questo che è il lavoro che succede all'USL invece per esempio all'ospedale se tenne in sé l'operatorio succede tutti i colori questa è una donna che si è buttata sull'nuda dall'OTF la povera è morta comunque l'ha portata all'ospedale per un soccorso per vedere se era qualcosa di fare e siccome l'era nuda insieme alla baralla del corridore c'è un uomo che ha messo un capello insomma per pudor e come le aveva detto in sé l'operatorio arriva il dottor e gli dice allora organizziamo per me tutto bisogna tirare fuori l'uomo e succede al pronto soccorso amo la mia finita che dopo mi incontro gli altri che io ho visto succedere a me al pronto soccorso e succede tutti colori invece tornando alla bomba una bomba che a me la vuole mai buttare perché al mondo la cosa più importante è la vita e non a caso me e Franco non possiamo fare una canzone facciamo la vita la musica l'ha fatta il nostro maestro Roberto Pironi adesso la facciamo noi tra due la cantiamo l'ho la canta il vetro sono mia ciflè la faccio il capire certo che la vita la fa nir dove li vali la fa sempre dal sorprese e la fa propria tribuler uniti a bit da pagher e tanti tassi da ingugnere uniti che te al mezzaini che si vuole mi appiodere certo sono d'accordi che la vetta le biliaca la da sempre di problema più che dal soddisfazione Andreotti Poggiolini Craxi e tutti questi ladrò mentre finì segni e bossi al scolender l'estremozione con Berluscon comunque un eter fin quando che tu pizzi da mangiare fin quando che una botiglia da voder fin quando che tu malvoro da fumare fin quando come la voce ha proccantare al sintera sagnito se la vetta le dura la vetta bella o brutta la sa mai fa paura fin quando che la chitarra da su ner la vetta le nagiostra la som la forgire certo che la vetta le nagara un po' in salida con alcovi in autostreda per andare in ir dal mer con la lotta quotidiana per catar da lavorare con i scioperini dal detti che insolvò ogni vicensier certo assunti accordi per di mondi leon calvari a col proprio e la fortuna per star fuori dai ciappei quanti cocchi che stivede perché scuole mia più ben quanta ciappei che ciappei che ciappei fin quando che la donna dava ser al simbara sanginto se la vetta de cruda la vetta bella o brotta la volsa impervisuda fin quando che la miga sporca in terra la vetta le naroda la sombra forgire e il maestro a muler anche qui come nuete che la passe na canter e a sparacchè infatti nuete fin quando che le do pizzi da mangiere fin quando che la buteglia da voder fin quando che la malboro da fumere fin quando la con la vosa pro cantere assinter assaginto se la vetta de dura la vetta bella o brotta la som mai fa paura fin quando che la chitarra da su ner la vetta le la giostra la som la forgire fin quando che la voglia de scherzè fin quando che la cavoma respire fin quando che un putin da care se fin quando che una donna da baser al simbara s'aggintose la vetta de cruda la vetta bella o brotta la bolsa impervissuda fin quando che un amica sporcanter la vetta le naroda nessun la vol fermé grazie grazie io farei prolungherei l'applauso per Franco lui è sicuramente molto emozionato quest'anno perché è un po' tempo che come il stomac no allora sono adre rufianeri comunque è un'associazione molto importante che si occupa delle malattie dell'apparato digerente e che bisogna sostenere così come si sostengono tutte le altre logicamente sapete che ce ne sono tante c'è l'Aido associazione italiana donatori organi c'è l'Aism associazione italiana sclerosi multipla le tardessi sono passati dall'ospedale viadana che era un cartel andossi io ho detto ma cos'è il cusche è l'associazione nazionale donne operate al seno allora io ho detto che giustamente però che ognuno giustamente fa un'associazione che risolve i problemi dal tipo problema che è perché si è spazio come lì allora io ho pensato di fare la nuca di l'associazione nazionale uomini che da piccoli hanno avuto la tosse cattiva ma ci è andata via quasi subito perché a me no adesso questa quella era solo una battuta l'importante è sempre per parlare dell'ASCMAT ASCMAT voi sapete che è l'associazione per lo studio della cura della malattia dell'apparato digerente bisogna sostenerla direttamente perché se non è trafesso non raccoglie il soldo che vanno tutti in tasse allora bisogna sostenerli loro direttamente se vi ricordate cosa vuol dire ASCMAT fai tutti i vostri esempi per esempio potrei dire si che mega divertirvi no oppure potrei dire a stare con uberto o a dimagrare oppure a ascoltare chi l'ora mi dorme per uberto oppure qui l'ora può dire assunti ma dimagrare o vettere apprezzo dire allora se canta me la vediamo l'autre apprezzo dire anche se canta me la applaudire dai cioè quel è il problema il dottor per esempio per esempio il dottor sono che mi a disposizione un ottimista che ha fatto con la gastroscopia se l'ho l'ottimista gli dici se l'ho se l'ho se l'ho se l'ho mi adoro un fifà gli dici spero che manca il dottor sempre per Aschmad loro dicono Aschmad automaticamente vuol dire che è oppure per esempio io ho visto un comunista che gli dava l'ulcera gli dici Aschmad in che senso gli dici ai socialisti che siamo morati con il deretano nèter che hanno fatto tre gastroscopie e se io mi ha cosa gli dici gli dici Aschmad in che senso gli dici allora siamo che è mio difetto e un addirittura che hanno lasciato il sondain non mi ha chiarosa è il posto è una battuta che hanno l'accelo un den dopo una rettoscopia e loro dici ah se chi manovra il dorum per forza vabbè non parli parlatene pubblicizzatela andateli a trovare dici soldi che non hanno bisogno fai con il caffè tanto meno che sia della breve gente adesso a fom siccome abbiamo parlato zitta e siccome la vita è bella quando si vengono persone di vari reggbeini adesso facciamo la canzone che siamo mi vediamo e la canta Franco Setti e la scritta Gaudio Catellani e mi intanto Vagabaver grazie a tutti grazie a tutti e la canzone Né troppo, né nian troppo poc, né troppo onest, né leder, me ne piacere esser so come le steme pede. E voi la se ne so, né debita pagher, né capitei da vendere, né roba da comprare. A piacere più che l'or, la terra o di queder, la sera è galvico, e ma la se ne pede, a me fio la tue idee, né torte né ragion, né fer' un sottometter, né fer' exudizion. Di veder tutti i mesi, come se fossi non seder, né più né meno bei, e come ha fatto me pede. Me pede, l'era xè, l'era un nome enorme, niente in particolare, e niente eccessione, la cosa eccessione, l'era il nostro rapport, ha spallonto di idee, anche ad essa ha clemò. Da me fio l'ambo in ghì, so manca troppo contento, s'adventa mia un'idiota, oppure un delinquere. Calveva la sovettà, come al credo opportuno, me ha fer' una cosa o cletra, a me obblighe nissù. Però, piast' re' una cosa, caldissà di frate, che fossen sempre unii, come su me, cui me. Che fossene parola, che fossene mai bu siete, e che mi presta il bene, che mi auguro a me pede. Ma la cosa più bella, con la cattene più, che non fosse natale, al di che morirò, e come per me pede, mentre cavar pian pian, in un ragazzo. Anche sempre l'amai. Grazie. Mi è finita la canzone, ma che continui a dire. Io ho fatto fadiga. Grazie. Io ho fatto fadiga, ma le quasi adri imparare a cantare, con le tè il vino, perché le giovani, le ragazze, ma il vino. Adesso si permetti, per farmi troppo la figura di Vilano, ci piacerebbe farvi, una canzone in italiano a testa, accesse sfuga, ma anche un po' non è, no? Io direi, che cominci Uberto, con un pezzo che dà anche il titolo, alla sua musicassetta, che noi, logicamente, anche le musicassette, ce l'abbiamo, per quelli che sono interessati, la sua musicassetta, come la canzone, si chiama, L'altra metà del cielo. Uberto Pierone. Tutti i sorrisi che non ho, vorrei trovarli fra la gente, vorrei scoprirli insieme a te, e regalarli almeno un po' al mondo intero, intorno a me. Forse nei giorni tornerà, il sole a illuminare il cielo, e nelle strade, sulle vie, saranno splendide allegri, che abiteranno dentro me. Quante emozioni che non ho, vorrei cercarle fra la gente, vorrei anche vivere con te, e regalarli almeno un po', al mondo intero, intorno a me. Poi sulle labbra tornerà, il desiderio di un sorriso, e nelle strade, sulle vie, saranno splendide allegri, che abiteranno dentro me. Non morirà la mia speranza, di poter correre con te, di accarezzare tutto ciò, che nella vita io non ho, non sono riuscito mai a trovare. L'altra metà del nostro cielo, a di miei occhi si aprirà, e di mio volo prenderò, dentro al mio cuore, porterò il tuo sorriso, e la tua vita. Poi sulle labbra tornerà, il desiderio di un sorriso, e nelle strade, sulle vie, saranno splendide allegri, che abiteranno dentro me. Non morirà la mia speranza, di poter correre con te, di accarezzare tutto ciò, che nella vita io non ho, non sono riuscito mai a trovare. L'altra metà del nostro cielo, a di miei occhi si aprirà, ed il mio volo prenderò, dentro al mio cuore, porterò il tuo sorriso, e la tua vita. Non morirà la mia speranza, di poter correre con te, di accarezzare, di accarezzare tutto ciò, che nella vita io non ho, non sono riuscito mai a trovare. L'altra metà del nostro cielo, a di miei occhi si aprirà, ed il mio volo prenderò, dentro al mio cuore, porterò il tuo sorriso, e la tua vita. Non morirà la mia speranza, di poter correre con te, di accarezzare tutto ciò, che nella vita io non ho, che nella vita io non ho, che nella vita io non ho, grazie. Adesso mi faccio una camea, faccio una camea che so in italiano, mi piacerebbe farvene una, che si chiama C6, mi piacerebbe anche spiegarvi tutta la storia, come nasce una canzone, quante ore si fanno a pensarla, in sala di registrazione, eccetera, eccetera, ma il disfranco che, le commesse tutte le volte, che non mi ha fatto, è morta dalla, che ti spiega la storia dal nemale, e allora non mi ha lasciato perdere. Allora, la canzone si chiama C6, io la dedico a tutte le donne, che ci sono qua, sperando che abbia sempre un qualche dunque, che dice C6, e lei la risponde, affondato, se fai la battaglia a Navella, sennò, vai, vai, che il cacere in inotivi. Chi ti ha portato da me, fa volare, che vento c'era con te, nuvola, vuoi fare il nido con me, rondine, piccola, piccola, ti prego dimmi, dici musica, dimmi che resti con me, dimmelo, ho tanto bene per te, prendilo, svuotami, e vivi, vivi, ho sognato di noi, ci amavamo da tanto, ma eravamo due angeli, con un'ala soltanto, poi ci siamo capiti, e ci siamo aiutati, ed abbiamo imparato, a volare abbracciati, eravamo felici, e alla fine del volo, eravamo due ali, ed un angelo solo, poi mi sono svegliato, ero solo nel letto, ma continuo a sentirmi, le tue piume sul petto, e ora so che ci sei, che non è solo un sogno, e sei tu quella che vorrei, e di te che ho bisogno, non un attimo solo, ma per tutta la vita, per tentare quel volo, quella storia infinita, per coprirti d'amore, per entrarti negli occhi, per sentirmi morire, se mi guardi o mi tocchi, e per perdere l'amore, dentro nelle tue mani, per sentirmi il tuo ieri, il tuo oggi, il domani, sempre con te, sono con te, sono con te, Grazie Chi ti ha portato da me? Fa volare, che vento c'era con te? Nuvola, vuoi fare il nido con me? Rondine, fermati, amami, piccolo fiore sarò, tenerò, come rugiada sui tuoi petalini, quando sarò dentro te, chiudi lì, prendimi, vedimi. Voglio fare l'amore, voglio farlo per ore, voglio fare l'amore con te. Grazie Grazie L'ultima prima di 5 minuti di intervallo, ma dopo non andate via, eh, state qua, state con noi come disera a Canale 25, là Questa era tratta dalla mia cassetta personale, che si chiama 100% Gaudio, invece il disco di Franco, che si chiama Via con lei, come la sua canzone, e adesso ve la fa Grazie 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 So, so già che mi riabiterò, l'eroina per me è tutto quello che non ho Quando c'era lei andava tutto bene E la roba non serviva Io non mi facevo buchi nelle vene Lei mi amava e mi capiva Quando c'era lei, credevo nella vita Ora io vorrei morire Il dottore Il dottore non capisce che è finita Dice che potrò guarire Ma guarire perché Se non c'è lei Se lei non c'è Non è Non è più qui Me ne frego di me Se non c'è lei Se lei non c'è Voglio andarmene via Voglio andarmene via Come l'anima mia Via Via con lei Via con lei Via con lei Via con lei C'è il congresso, c'è un dottore tedesco che dice «Dessere ti mostro il pulso con sei gampo fa salta di tre metri, salta, salta» e la pulga «Trac, sei metri». «Dessere ti mostro il pulso con quattro gampo fa salta di tre metri, salta, salta» e la pulga «Trac, salta di tre metri». «Dessere ti mostro il pulso con due gampo fa salta di un metri, e la ticcava via e tra so quanti. «Ssalta, salta!» «Trac, l'ha fatto un sale di un metri». «Distesso io fai un esperimento molto sensazionale». «Trac, trac, la tira via gli ultimi due». «Ssalta, salta!» «Haha, io ti mostro il pulso senza gampo diventa sorden». «I matchi dottore». «Allora, prossima canzone, av la canta chi l'ho». «Perché? Perché l'è il più sfiga di te». «Non è vero, non è vero, non è vero». «È una canzone che si chiama Orco Cani, av la canta». «Adesso vi spieghi, cioè, tutte le canzoni di Gaudio Catellani che escono dalla sua penna sono frutto di un'esperienza personale». «No, le mie, è un problema suo». «Adesso, scultella, poi dopo a me dice, può l'essere successa a me o a lui?» «C'è la vergogna». «A me è successa una faccenda piuttosto incresciosa». «Praticamente come un colpe di l'indidente». «I bacchino su una ragazza ben fatta e formosa». «Con una faccina da furba e nuocci solidei». «Io come gli raccontei, gli era un vulcà infermente». «Iva stupito di amici e perfino i parei e i conoscei». «Tot al matè mi agmandeva un bocciolet na rosa». «La fatte un set d'acce in Russia che gli uiterà è morto». «Per conquisterla pian pian e romanticamente». «Tant che purtroppo la faccenda la niva costosa». «E ormai la niva costretta a mandersi un aumento». «Tot bella signora». «Mollera tanto simpatica e tanto affettuosa». «Che anche assandeva in malora e andeva contento». «Ti uomo che bel sentimento». «Ti uomo che bel sentimento». «Aveva spiura anche i dei». «E andiva allora che gli sa il fattere di momè». «Dal cucamè». «La nera piassuda subet come ghegna». «E chi va lì su la libet di riti oggi». «Am ghera t'acchè come un set e cramigna». «E ghera arrive con alma fine sdoch». «Cocquegna la tegna, la rogna, la megna». «La freva ma legna ed un cram fin tu nocce». «Ali va pur te da fin so per la vegna». «La vegna la tegna, la lele era un fnoce». «Al dedinco l'edifici l'ander amorosa». «Meglio smesso». «D'acqua in cui io me ne al doni, le tot un casei». «Si, si, si, capis più niente». «Per far vintare la faccenda un po' meno risciosa». «Aste vento d'obbligare a portare un cartellino». «Soprattutto i flott». «Non ne coglioni, soprannone, ma ho iscritto ogni cosa». «Anca sa che la pernisa o sa che è pistolei». «Si io non ho troppo un casei, a che se che niente va bene». «Mè per torner con una donna, a voi vedrà il cartellino». «Sommi a un cretei». «S'am torna a succedere che è un chiesa una ghigna». «C'è torna a catter la libertinità». «C'è torna a taccher come un zette e dramegna». «C'è torna a river con un'almantina e sdoch». «C'è da torner con una donna in tavegna». «E poi salti fuori a calvo su un maschias». «C'è torna la tegna, la rogna e la megna». «E' un can grinta ghigna». «Stavolta me al maschia». «C'è torna la tegna, la rogna e la megna». «E' un can grinta ghigna». «Stavolta me al maschia». «Giorno». Però vorrei parlare di una cosa che è successa. «A un esame di medicina, ha detto al professor, con il studente. Dove c'hanno l'appendice e gli uomini?» «A destra». «Bravo». «Attento, adesso ho domanda tra bocchetto». «Domanda tra bocchetto, loro devo rispondere all'arverso». «Dove c'hanno l'appendice e le donne?» «A sinistra». «Eh?» «No, un momento, mi lasci finire». «A sinistra, entrando». «Als furia salvare il corner». «Vabbè, la canzone che vi facciamo adesso è «Sereneda». è una canzone che noi ci abbiamo pensato oggi, perché da starle so, la settiva che il Fnestri è che in pittoreschi vedi, no? E ho pensato, facciamo la «Sereneda» diretti verso il Fnestri, ma ho storia, perché il Fnestri si va da me. «Vabbè, facciamo finta che sia una Fnestra». «Gli facciamo la «Serenata», la prima parte alla maniera in cui la farebbe Pieruni e la seconda parte alla maniera che la farebbe me, Franco». «Vai, maestro, che te fa?» «Io dovrei fare la donna, che sono più adatto. Però non ho né il reggiseno, né la parrucca, né la donna. Quindi fa «Gli». Come ti immaginavo un balcone come una volta, eh? La bella ragazza al balcone e un come Pierone con la chitarra sotto là che fa la sereneda, eh? «Non è la persona mia». «Vera la Fnestra, bella bambuleina». «Sentete come le veliche?» «Si io non mi vattio via fino a mattina». «Tocca lui le insistete in questo lavoro». «Vin al balcone ed è una paroleina». «Basta caffè da me, a sta bello bene». «Vin al balcone ed è una parola. «Vin al balcone ed è una parola». «Vin al balcone ed è una parola». «Vin al balcone ed è una parola». «Vin al dolno» «Vin al balcone ed è una parola. Caputina, fammi il trevizzo e zò per la schiena, vera la finestra e fammi un sorriso, s'at comandero in paradino. Posso continuare, beh? Ossi, caro. Perché la vot mi arvir la tua finestreina, gli avreb mai detto che è stata un saccicleteina. Voglio morire, Vergine. Sì, dimmi al balcone, ben d'ai una vena, accimitai tutti due, vera la finestra e dà un soddisfazione. Vera la finestra, bruta e cattiva, feromi a credere che me traga e schiva, e c'è sera la finestra, fermi alla diva, vina la finestra, dai, per piacere. Vera la finestra, bruta e dà un soddisfazione. Grazie. Grazie. Prova, ci chiamo mio padre. Vest che la vot mi arvir, ti la sarè da, mi vaga a dir in giro che ti impeste da, a Galizia, che preusi copertà o a l'auga d'estrena, ti impulsare la finestra e vai in casei. Padre via l'orgen di la tua finestra, mi vaga che con tutta l'orchestra, mossatmi conters della tua finestra, perché altrimenti mi fai un soddisfazione. Sarà la finestra, bruta e migliacca, e ne crete, ne slima e ne vacca. Sarà la finestra, bruta patacca, sarà la finestra, la dà un'idea. Sì, diciamo che non è la serenata standard, insomma. Però a volte un uomo può anche scappare la pazienza. Oh, tornando ai discorsi dagli USL, che abbiamo chiesto anche qui, perché con poco tempo, purtroppo, non so che a te, le prossime sere, che dopo vediamo dove siamo, che con più tempo ci sarà. No, vorrei solo contare, che dopo tutti i reperti di Ospedex, e quanti che mi ha più speranza, si affanno la gente? E vanno a Lourdes, no? Allora, vanno a Lourdes, si apriano un bel pullman, e cargono ragazzi, invece Putin, e vanno a Lourdes, e infatti è successo una volta, che un pullman che tornava da Lourdes, e si infermò a fare nafta in un distributore, che era il bensiniero, cioè il bensiniero, ho messo lo mio con i bensinieri, però non è qui che non può mi attaccare, fin fine. Ho appoggiato il pò insieme alla gomma, dal pullman, l'attacchè, con la rivoltà, l'affare il rifornimento, la guarda su, la gara unchi ragazzi, nel portatore d'antica, insieme al pullman, ha detto, ciao, non ho, il puttino fa, ciao, non si stendono, siamo stati a Lourdes, che ti sarei, è il so che è questo che, è il so che è cattivo, insomma, ma non devo dirla, sono mia perché, forse un po' sadiso manca a me, no, adesso ho una cosa seria, i vestiti, di che cosa è successo, noi abbiamo fatto una canzone, sopra a Sarajevo, ci sembra giusto farla, sì, ha cambiato mia niente, non so mai, insomma. Con Huberto, la chitarra, Ti ricordi come noi stavamo bene a Sarajevo, io ti amavo e per la mano ti temevo, c'era il sole, ti baciavo e sorridevo, ti ricordi, le montagne con i boschi tutto intorno, e ogni notte ci portava un nuovo giorno, e ogni giorno io scoprivo insieme a te, la felicità. Sarajevo, oggi viene in esperanza, Sarajevo, fuori calvi e innamorati, Sarajevo, vini allegri e spensierati, Sarajevo, i lampi o niente la notte a Sarajevo, chocabamo nel mare de Sarajevo, l'aria fresca del mattino, Sarajevo, la tua bolla di un bambino, biondo come me. mi ricordo, quando il mondo si è fermato a Sarajevo, io partivo per la guerra e non volevo, Sarajevo, le vicava tu piangevi e ti perdevo, mi ricordo, le battaglie per i boschi tutto intorno, le granate sia di notte che di giorno, Sarajevo, adesso non esiste più, e nemmeno tu. Sarajevo, occhi freddi e spalaccati, Sarajevo, cuori pieni di paura, Sarajevo, Sarajevo, bimbi tristi e già invecchiati, Sarajevo, senza luci, fredda e scura, Sarajevo, sangue sporco nella neve, Sarajevo, la minestra in un catino, Sarajevo, il progetto di un bambino, che non nascerà. Sarajevo, come un grido di dolore, Sarajevo, è la tomba del mio amore, Sarajevo, è la fine della nostra dignità. Sarajevo, can't you hear this SOS from Sarajevo, Human rights and caught my place in Sarajevo, Sarajevo, always on my mind. Grazie. Siete molto gentili, stiamo quasi per chiudere ancora una canzone due, e poi non avremo più tempo, perché dobbiamo andare a vedere tutti i foghi artificiei, Onda del mare, è una canzone di Uberto Pieroni, lui ve la fa e noi te l'ascoltiamo. Andiamo là. Oh, posso contare solo una barzellata? Ma, ma sema, sema, sema. Avla conto perché non mi piace troppo, è troppo sema. Sì, ma stai in un reperto di neurologia dove la gente, eh? Neurologia, stiamo, no? Dove gli mi sono tutti a morte. Beh, lei, da volte cambia anche il professor, no? Perché è un dottor che al Ginevano fa, va. Professor Rossi, dov'è il professor Rossi? Alla ferma, l'infermero, il discusi, eh, ma il professor Rossi è lei. Il discusi, appunto, non tu sogni. Onda del mare, Uberto Pieroni. Onda del mare viene va, portando dietro la sua scia, che dolcemente fa cullare i miei ricordi di follia. Foglie di storia e di una età che mi accompagna sulla via è ancora viva nel mio cuore lei dorme in me, non vuole andare l'onda del mare viene e va tutti i pensieri infrangerà sagnami tu onda del mare sagnami tu dal mio dolore portami via onda del mare l'onda del mare viene e va quel suo rumore è una poesia il suo mistero fa tremare i miei ricordi di follia foglia di storia e di una età che mi fa perdere la via non abbandona mai il mio cuore prima nemmeno vuol morire l'onda del mare viene e va le mie amarezze infrangerà spagnami tu l'onda del mare salvami tu dal mio dolore portami via l'onda del mare nell'orizzonte del tuo sole l'onda del mare l'onda del mare viene e va la sento in me la sento mia da lei mi lascio trasportare nei miei ricordi di follia follia di storia e di una età e si allontana in quella scia poi si disperde poi si disperde dal mio cuore io devo farla allontanare l'onda del mare viene e va e la mia vita infrangerà portami via l'onda del mare salvami tu salvami tu dal mio dolore salvami tu l'onda del mare nell'orizzonte nell'orizzonte del tuo sole grazie grazie bravissimo Alberto allora ultima canzone poi facciamo la sigla finale vorrei comunicarvi che è stato trovato un portachiavi con le chiavi di una macchina, chi l'avesse perso cioè proviamo a arrivare la macchina qui di Glacavemia bisogna dire che da noi entra la cera, allora casomai spargete anche la voce, se non è di qualcuno di voi mentre andate in fuoco d'artifici e incrusete la gente che dice, pars la cera, te sei Glacatlán se no, in pare mia dopo che tocca andare a capire i poveri mentre lui cantava io e Franco abbiamo fatto un breve conciliabolo siccome che c'erano ancora 5 o 6 canzoni ma fanno in tempo a fare i tutti non perché è mia e non perché è bellissima e non perché se canta, me chi l'ha attesa ma noi abbiamo fatto una canzone che parla dei nomadi è un po' una ruffianè dal suo, però giuro che quando l'ho fatta a me cioè, col chiodetto al pince da bong perché sono sempre un fan dei nomadi e io ho visto anche dopo che mi è più a gusto in breve lì stessa andiamo a vedere io chiuderei con questa qui perché siamo in zona e mi è vero, la fa un po' anche quando andiamo su per montagna chiuderei con questa qui sei d'accordo, Uberto? fammi accé e poi la sigla finale Alain che è di Uberto vai maestro che ti paga che fra pochi fanno artifici oh che fai il coro eh fai che ho battito il mano dai fanno come il cantante qui Togo che sembrano sempre più un bambino eh c'è finta che siamo a vasco rossi in città se vorrei una vita spericolata vaga che hai 150 che mio problema a cazzo nomadi non significa solo liberico come zingari non vuol dire soltanto uomini che si muovono non è solo una Mercedes con l'arulo ma nomadi è lasciarsi portare via dove vuole l'anima è l'amore per una donna o per una musica è il rimpianto per un amico che non c'è più nomadi come stelle e comete che viaggiano in cieli lontani come certe canzoni famose degli intitivani come frasi che girano il mondo e ritornano qui nomadi come ironi come ironi che volano neri al di sopra dei monti come indiani ribelli che danno la caccia ai bisonti come nuvole spinte lontano dal vento dell'est nomadi come un'altra caccia ai bisonti come un'altra caccia ai bisonti come un'altra caccia ai bisonti E' il mio carattere. Ma non appartiene a noi, nomadi, siamo nati tutti nudi e più o meno simili, e morendo non ci portiamo con noi gli immobili, ma soltanto la nostra storia ci seguirà. Nomadi, non è solo una condizione ma è un sentimento, non si può possedere il sole, la pioggia o il vento, non puoi vendere né comprare la libertà. Nomadi, come i cuori, come i pensieri delle persone, come il testo, come le note di una canzone, che la fai ma non saprai mai chi la canterà. Nomadi 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 Se chi muore rimane vivo nei tuoi pensieri, se domani non è più oggi ma è come ieri, se un minuto può diventare un'eternità. Nomadi Nomadi Come l'acqua che cade scorre e si lascia bere, ma risale in cielo e poi tornerà a cadere, come sabbia che tra le dita ti sfugge via. Nomadi Come l'acqua che Grazie mille anche a nome dei nomadi Chiudiamo, vi ricordiamo che alle undici e mezza ci sono i fuochi artificiali La sigla finale del grande musicista Uberto Pieroni, si chiama Alain Noi vi diamo appuntamento, la prima serata sicura che sappiamo noi è il 18 giugno a Albinea, Circolo, Bella Rosa Se in parecchia che la serata premanisce, che a te, che ci c'erò, dai Ciao a tutti, grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille